ciao corrado buongiorno ezio io ho chiamato per parlare di musica d'altro canto era doveroso visto che oltre a essere un musicista e un musicologo insegni anche al corso di storie storia storia del mondo contemporaneo musica del ventesimo secolo esatto in effetti io credo che un po in tutte le culture la musica da sempre ci racconti delle storie oppure forse le storie sono cantate e raccontate attraverso la musica dipende un po da come la si vede la questione però nella musica tradizionale nella musica popolare di cui tra l'altro io sono molto appassionato personalmente si possono trovare figure come cantastorie figure di musicisti itineranti i bardi trovatori i menestrelli no fino arrivare i cantautori della nostra età contemporanea no e non dimenticherei nemmeno compositori musica colta insomma cosa ne pensi tu di questa potenziale oppure già ben consolidata pervasività della storia nella musica dunque io credo che derivi da un'esigenza no dell'uomo un'esigenza primaria che è quella di raccontare per ricordare in primis no cioè l'esigenza di fissare dei racconti in una forma che permetta il loro propagarsi nel tempo e anche nello spazio quindi è a che fare moltissimo con la tradizione orale no la musica è un modo quando è associata al testo di rinforzare la memorizzazione no questo lo vediamo nelle culture extraeuropee per esempio questo è il lavoro di antropologi naturalmente ma lo vediamo anche nella tradizione popolare a cui tu hai fatto riferimento cioè le storie dei trovatori dei menestrelli e dei bardi ma poi fino ai nostri cantori fino ai nostri cantautori no derivano proprio da questo a volte infatti le formule musicali sono molto semplici ma servono proprio per propagare il testo associando una musica ripetitiva ad un testo che deve veicolare delle informazioni si fissano più facilmente nella memoria certi concetti certe certe avventure certe tradizioni certi racconti che servono poi a creare una coesione sociale per esempio in certe comunità in certi contesti in questo caso e la musica appunto ha la funzione di rafforzare la memoria la memorizzazione del testo quindi la musica fa un passo indietro e lavora in funzione del testo il testo è sempre più importante della musica cosa succede storicamente che a un certo punto si inventano dei sistemi per fissare la musica per renderla un testo scritto in questa maniera viene meno gradualmente l'esigenza di ripetitività perché potendo fissare la musica anche i racconti in musica e anche i racconti della stessa musica possono diventare più complessi possono diventare più sofisticati perché non abbiamo più bisogno di ripetere tante volte un motivo per farlo memorizzare o per memorizzarlo noi stessi ma potendolo fissare su carta questa musica poi per esempio può viaggiare in una maniera molto più veloce e molto più agevole si può trascrivere un testo si può copiare e quindi storicamente questo è un fenomeno che è successo è verificabile e va a pie pari proprio con la complessità dei messaggi che vengono veicolati è molto affascinante come processo è davvero guarda io come storico appassionato di musica diciamo così non posso non vedere le storie raccontate in musica come delle straordinarie fonti delle straordinarie fonti e hai appena detto tutti diventano fonti scritte a un certo punto dopo essere state a lungo magari delle delle forme di comunicazione esclusivamente orale e che però possono contribuire in modo significativo in entrambi i casi perché poi ci sono anche le fonti orali ancora oggi giustamente nel nostro mondo contemporaneo che possono essere raccolte no e conservate però contribuiscono tutte a mio avviso a una ricostruzione storica che può essere anche molto nuova no usare la musica usare ciò che è la musica e le storie che si racconta per avere anche quel cosiddetto approccio multidisciplinare su più discipline al mondo contemporaneo che è un mondo fatto appunto di tanti modi di comunicare di raccontare e che prende a prende in esame aspetti anche certo sono stati studiati anche nel passato precedente che riguardano ad esempio il gusto no delle delle comunità delle fino a delle singole persone alla cultura cosiddetta popolare e si arriva anche però a capire magari il gusto e le propensioni delle elite delle comunità più chiuse insomma di coloro che che governano o che decidono no quindi tantissimi a mio avviso elementi utili per gli storici sociali che fanno storia appunto delle società e diverse volte nel capitale di percepire insomma l'importanza della musica per capire ad esempio strategie di propaganda di costruzione del consenso e quindi anche gli storici politici pensiamo in certi momenti della storia contemporanea in cui c'è una colonna sonora no a certi cambiamenti troppo anche in negativo lasciate di cimi totalitari o altro e ci sono delle parole non solo le musiche no che che fanno che fanno sfondo e però ci sono anche momenti di protesta siamo al 68 pensiamo agli anni 70 con quel parliamo che pensiamo anche solo all'italia delle musiche che hanno cambiato veramente il modo di essere anche di alcune società no quello che è successo all'inizio degli anni 60 ad esempio con i nuovi gruppi di ambito di ambito rock poi pop e così via secondo guardi anche tu alle alla musica ogni tanto come serbatoio di fonti assolutamente sì guarda ti faccio un esempio molto semplice concreto nel mio corso un caso di studio è dedicato alla canzone italiana degli anni 60 perché un periodo storico molto particolare che segnato come tutti sappiamo da uno sviluppo economico importante dall'emersione di di nel dibattito pubblico di tematiche che fino allora erano solo sfumate o accennate e cosa succede nei testi delle canzoni di quel periodo per la prima volta per esempio l'amore no a delle connotazioni che alludono ad un diverso atteggiamento circa per esempio alla morale sessuale no a e per uno storico indagare queste fonti significa aprire uno spaccato molto utile per verificare certe ipotesi per esempio no si va a guardare oltre alla stampa la letteratura alla produzione artistica del periodo anche a queste forme che sembrano banali ma in realtà sono molto pervasive cioè ti danno proprio un'idea di che cosa scorre nella mentalità proprio proprio più forse intima interiore delle persone che si identificano con questi testi che cantano queste canzoni che amano il fatto che non ci sia più una relazione diversa fra le rime a cuore amore ma che ci sia una modalità più allargata dove si fa ci sono canzoni che parlano di tradimenti di suicidi insomma si cominciano a mettere in campo delle tematiche che prima sfuggivano no e che grazie proprio a questo modo di comunicarle diventano sempre più di dominio pubblico ma tu hai parlato anche per esempio di musica come propaganda questo è un anche da un punto di vista storico è un argomento molto forte e facilmente verificabile come per esempio la tecnologia l'avvento della radiodiffusione il sonoro nel cinema tutti i fenomeni dell'inizio del novecento no abbiano avuto poi un importanza strategica durante il periodo bellico no proprio per il controllo così capillare il fatto che la radio fosse diffusa un po in ovunque e la propaganda ne fa un larghissimo uso e anche la contropropaganda se vogliamo no radio londra e tutto il resto ma se pensiamo per esempio anche a il periodo post bellico il panamericanismo per esempio cioè voler diffondere quello che l'americanismo significa a livello anche valoriale su scala mondiale è un elemento fortissimo di gestione del consenso se tu ci pensi cioè gli stati uniti hanno vinto la guerra devono propagandare i loro valori in primi se devono anche aprire un ponte di comunicazione con l'europa che da un punto di vista strategico si pone a metà fra il blocco sovietico un anno mondo che deve uniformarsi invece dalle scale valoriali occidentali che sono tutte da costruire e quindi per esempio delle iniziative come la settima armata degli stati uniti che fonda una vera e propria orchestra in europa e commissiona dei brani a dei compositori che devono appunto fare in modo che una certa musica faccia da blocco contro la musica che arriva dall'unione sovietica ecco ci sono delle modalità quindi di rafforzare i legami internazionali con l'europa che non sono solo diplomatici ma sono anche culturali e vanno anche a toccare questi ambiti così che uno non mai sospetterebbe no e dall'altra parte se pensiamo anche degli altri fenomeni non lo spettro nucleare la crisi dei missili cubani immediatamente ci viene in mente la canzone di bob dylan hard rains gonna fall no che allude ad una pioggia nucleare no che investirà l'umanità ma pensiamo anche alla con tutta la contro cultura il fenomeno della contro cultura degli anni cinquanta è strettamente legato noi i poeti della beat generation kiroak ferlinghetti corso ginsberg ginsberg fanno per esempio del loro come usano come musica di riferimento il bebop che la musica dei neri americani ma è musica jazz dei neri americani ma come mai proprio quella musica no perché quella musica ha delle peculiarità delle caratteristiche delle connotazioni per esempio la il particolare ritmo che non è quadrato ma è simile assimilabile al flusso di coscienza letterario no loro apprezzano molto per esempio questa capacità ritmica e della di questa corrente particolare del jazz se ne appropriano perché scoprono delle affinità con loro mondo e fra l'altro non a caso e la musica dei neri americani che si contrappone alle big band bianche di quel periodo non anche sono che rappresentano nel jazz la musica mainstream quella a cui anche le radio la discografia nascente si 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 accompagna loro essendo diversi volendo essere diversi anche nella loro manifestazione letteraria si appropriano di un genere musicale che rappresenta a sua volta la diversità la contrapposizione e quindi è funzionale a quello che loro vogliono dire ma mi potrebbe mi vengono in mente mille altre stanno stanno venendo in mente anche a me corrado è una bellissima come dire tematica no perché molto spesso noi affrontiamo meglio fruiamo della musica in un modo in un modo diverso o meno a parte chi se ne occupa direttamente per lo studio come nel tuo caso o la o la o la o la o fa il musicista spesso siamo fruitori no dal punto di vista così della valore che ovviamente benefico su di noi l'ascoltiamo per rilassarci la musica ma invece la musica è quello che rappresenta la musica le canzoni i testi sono spesso dei degli elementi che connotano ad esempio le generazioni di una società no quasi sempre abbiamo detto cambiano cambiano i gusti cambiano le generazioni cambia cambia la musica ma la musica è anche l'hai detto tu prima è testimone se vuoi di momenti storici cioè ogni momento storico può avere una colonna sonora io ricordo io ricordo una trasmissione televisiva che circolava penso circoli ancora sulle reti britanniche reti televisive britanniche qualche anno fa e si chiamava reading in the years no attraversando gli anni che faceva tra l'altro riferimento al titolo di una canzone degli stili den che è un gruppo mi pare pop degli anni 80 no 70 80 ma questa reading in the years era una costruzione storica di tutto quello che avveniva in un anno determinato anno poniamo il 1965 che parte da gennaio per arrivare a dicembre con immagini di repertorio tratto dai vari dai vari cine giornali da fonti fonti audiovisivi a tutti gli effetti con interviste era ma c'era sempre una colonna sonora che cambiava a seconda dei mesi e individuava la canzone dei beatles la canzone di qualche altro gruppo in quel momento segnava un'epoca un momento un cambiamento poi citato la crisi dei missili in effetti no e quindi c'erano proprio delle canzoni che venivano ascoltate in quei momenti e altre come hai detto tu che invece facevano riferimento alla paura che poteva nascere da alcune situazioni diciamo così pericolose e difficili perché io ho notato in effetti che in tante culture anche anche in quelle extra europee come dicevi tu all'inizio la musica è spesso anche legata al mantenimento della memoria storica no il riferimento è a grandi eventi ma può essere anche a piccolissimi eventi eventi di quotidianità micro storie per musica che racconta il quotidiano che mi sembra sia una caratteristica propria della musica tradizionale in qualsiasi ambito sia europeo che extra europeo piccole storie ma anche riferimenti a grandi eventi per esempio a una guerra in cui siamo tutti coinvolti anche chi fino a prima raccontava in musica di eventi legati al raccolto dei campi o alla vita sociale ecco questi passaggi no che fanno però capire moltissimo oltre al fatto a mio avviso che in alcuni casi queste questi testi e queste musiche vengono usate per da un lato rafforzare la propria identità e dall'altro insegnare alle generazioni successive valori che si pensa abbia ancora abbiano ancora un senso no pensi che sia così in generale l'esperienza assolutamente sì ne abbiamo fatto cenno prima e la musica è fondamentale per l'identità di una comunità più la comunità fra l'altro è ristretta più la musica è facilmente appunto indagabile in quel contesto perché appunto viene come dire propagandata e tramandata di generazione in generazione per consolidare determinati valori no ci basta pensare non so in italia la cosa più evidente che mi viene in mente il fenomeno della taranta no che è un fenomeno musicale ma anche molto di più cioè diventa una tradizione culturale diventa una una strategia anche di marketing territoriale di veicolo di turismo no ma è la il fenomeno della taranta non è altro che l'emersione di qualcosa che deriva da studi di di antropologia musicale di di etnomusicologia che poi nel tempo tramite appunto il diffondersi di queste idee è diventato occasione anche per fare una riflessione su un concetto di identità culturale di un di una di un territorio ci sono molte altre comunità in basilicata per esempio che hanno delle forme di festa popolare che sono elaboratissime con una simbologia molto complessa che deriva da tempi molto remoti dove ci sono magari forse anche intrecci con tradizioni pagane per esempio no e che poi hanno una loro musica una loro musica non è fatta di strumenti particolari che vengono usati solo in determinate occasioni i con quindi determinate modalità di utilizzo con una propria come dire modo particolare di essere suonati di essere adoperati e quindi che devono essere insegnati che devono essere costruiti no e poi una e che creano una specie di sostrato di colonna sonora di questi eventi di queste feste probabilmente adesso si vanno un po perdendo certe peculiarità perché nel mondo così variegato del turismo a chilometro zero ci sono degli innesti anche di altro tipo però volendo un po indagare e sono stati fatti molti studi ci sono appunto tantissime cose da poter esplorare su questi campi su questi settori anche appunto riguardo a quello che tu hai accennato della micro storia degli eventi che hanno segnato una comunità e che quindi vanno ricordati e che vanno espressi forse poi si a un certo punto diventa più una simbologia che una che un ricordo no di un evento particolare ma ciò non toglie che appunto tutta una comunità si possa raggrumare attorno a questa musica queste danze a queste feste cioè c'è tutto un intreccio di cose anche prima riguardo sempre ritornando un secondo a quanto avevamo accennato prima riguardo alla cultura popolare non possiamo non nominare il festival di woodstock per esempio che è stata una specie di spartiacque generazionale no perché è stato forse il più grande festival libertario no della della storia perché era un po il culmine degli ideali di una generazione che in qualche modo pensava da era convinta davvero di poter cambiare il mondo con i propri ideali ci sono tantissime c'è stata una riscoperta c'è stata una riscoperta di questa musica io credo anche in tempi più recenti no perché ormai festival di woodstock risale a diversi decenni fa no metà del quasi poco sì in un periodo che ormai studiamo dal punto di da un punto di vista prettamente storico no per la sua per una serie di risultati che ha dato poi questa questo decennio degli anni 60 dei primi anni 70 ci sono vari fenomeni che riguardano la riscoperta delle musiche sia appunto di questo tipo anche di tipo strettamente tradizionali come come quello che tu citavi prima cioè appunto le feste che recuperano le vecchie sonorità della tradizione italiana io ho notato un fenomeno che si è verificato per esempio negli anni 70 per tutta quella musica che è stata definita celtica nell'area irlandese nell'area bretone dell'area scozzese ma anche inglese e anche in nei paesi baschi no tutta una zona che in qualche modo ha delle affinità dal punto di vista delle sonorità diciamo tradizionali che magari è partita con pochi strumenti anzi aveva dal punto di vista proprio delle fonti storiche una numero di strumenti piuttosto limitato e che poi si è ampliato con l'uso di strumenti molto diversi anche provenienti da culture differenti ma si è rivitalizzata è ripartita e soprattutto si è contaminata se vogliamo così con un modo di far musica che era proprio di quegli anni cioè appunto un rock anche innovativo da cui il fenomeno del folk rock ecco questo l'ho notato anche in italia che hanno riscoperto la musica ad esempio tradizionale sarda o del meridione di da o di altre parti del meridione con delle magnifiche a mio avviso ma è una questione di gusto personale ma è anche questione di analisi sociale insomma degli effetti cioè egli si è creata una situazione se vogliamo di dibattito fra chi insisteva nella necessità di mantenere integri i suoni originali ma quando potevamo rendere originali questi suoni non era chiaro perché tradizione in qualche modo si evolve no esendo pezzi e contaminazioni già nel suo essere e chi invece insisteva nella possibilità di cambiare di contaminare di fare qualsiasi tipo di stravolgimento è un po come nell'arte no se vogliamo ecco cosa ne pensi di questi fenomeni di contaminazione fra generi musicali sono inevitabili sono ci sono sempre stati sono sempre esistiti noi adesso ce ne rendiamo più conto perché grazie ai mezzi di comunicazione ovviamente una una un fenomeno e non ha più confini e quindi in tempo reale la musica di una comunità si può propagandare in tutto il mondo ma se tu ci pensi ma già ai primordi della 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 dell'avvento dei mezzi di comunicazione che erano in grado di registrare le fonti sonore i pionieri dell'etnomusicologia come bella bartok per esempio andavano nei campi ungheresi a registrare dal vivo i canti delle delle comunità locali per poi trasferire questo materiale nella propria produzione artistica lì appunto ci sono due scuole di pensiero perché questa contaminazione c'è sempre stata anche prima le melodie popolari trascritte da dorsiac piuttosto che da altri c'è sempre stato una contaminazione un colloquio fra il mondo della musica chiamiamolo colto e la tradizione popolare solo che c'è una differenza che in passato questa tradizione popolare veniva deformata per poterla fare entrare nei canoni di quadratura dell'accademia invece man mano che si è presa consapevolezza della genuinità delle fonti si è fatto di tutto per cercare anche da un punto di vista ritmico di evitare la quadratura banalmente bartok usa dei ritmi sono dispari per esempio che sono propri della tradizione dell'est europa senza volerli modificare magari con un ottavo in più rispetto alla quadratura della misura ecco e oppure mi viene da pensare non so a moris ravelle che prende i canti o le ritmi della tradizione basca che rappresentate in cuor suo proprio dalla madre no che ha quelle origini e li trasferisce in una maniera estremamente creativa nella sua produzione più raffinata quindi questo fenomeno di interdipendenza di colloquio c'è sempre stato perché si tratta di testi sono dei testi che dialogano fra di loro la musica è un testo come appunto e può essere considerato alla stregua di una produzione letterale o letteraria o di un quadro o di una fotografia o di una scultura o di un film quindi c'è una comunicazione fra fra i vari testi e che vengono che si parlano fra di loro questo è un fenomeno affascinante e la c'è una deriva però che ovviamente rappresentata sempre dal progresso e dalla dalla tecnologia per cui inevitabilmente c'è una come dire un certo punto una saturazione e per cui c'è una specie di omogeneizzazione no si la musica giovanile giapponese assomiglia a quella peruviana e a quella il rap italiano mutua ecco insomma ci siamo capiti quindi si perdono un po' le connotazioni che sono più squisitamente locali culturali per una globalizzazione anche del linguaggio ma questo è segno dei tempi anche questo è fa parte della storia no fa parte assolutamente poi se posso anche dire c'è una 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 due un dualismo nella musica insito proprio perché la musica di per sé un'arte che potentemente evocativa no e creativa e poetica nel senso più vero del termine proprio come fattività del creatore alle prese con un materiale grezzo per poi creare l'opera d'arte e quindi c'è una personalizzazione una autorialità nella musica un marchio che in qualche modo è sempre presente non si in modo più o meno evidente ma si può risalire all'autore di una determinata musica no però ci sono ci possono essere contemporaneamente anche correnti di pensiero scuole nazionali scuole locali filosofie degli orientamenti più o meno evidenti che cosa succede che più ci avviciniamo alla contemporaneità più si allarga questa forbice comunicativa per cui da una parte la musica diventa sempre più popolare perché è un fenomeno di massa e come tutti i fenomeni di massa soggiace a alla ad un orientamento al profitto e al consumo no al mercato e dall'altra invece dall'altra nell'altra estremità di questa forbice la musica si fa sempre più auto referenziale sempre più complessa ma questo non lo notiamo solo nella musica colta anche nella musica rock ne l'abbiamo notato nella musica pop no ci sono stati dei momenti per esempio nel rock con l'avvento del progressive in cui la musica ha voluto esplorare dei territori di complessità no quindi è diventata più elitaria in un certo senso e poi invece ci sono stati dei momenti di ripiegamento per cui il punk no che ha fracassato il questo questa complessità per un ritorno alle origini no diciamo la protesta globale esattamente dove la musica non era più appannaggio dei ragazzi che avevano fatto il conservatorio le scuole inglesi migliori ma chiunque con una chitarra e una batteria poteva creare era importante saper suonare esatto per suonare guarda questo è anche tanto importante saper suonare no e poi ci sono e finisco dei fenomeni come abbiamo già accennato di ibridazione no il crossover di colloquio di contrasto di di comunicazione fra diverse correnti oppure ci possono essere dei fenomeni importanti dal punto di vista artistico di semplificazione come il punk per quanto riguarda la musica popolare popular non popolare ma popular e nella musica colta fenomeni come il minimalismo dove davanti alla complessità così esagerata portata alle estreme conseguenze della musica d'avanguardia c'è un ritorno alla semplificazione alla semplificazione che diventa poetica perché la new age tra l'altro anche anche ma nel minimalismo e si un ritorno per esempio ad una forma di lasciarsi trasportare dalla musica come entrando in una specie di stato di trance dove una armonia viene reiterata per centinaia di volte la gabbia sonora capisci più esatto anche da un punto di vista formale dove ti trovi all'ascolto no insomma la musica è meravigliosa no a tantissime sfaccettature se ne potrebbe parlare per ora siamo perfettamente d'accordo corrado è meravigliosa ma è anche veramente una grande opportunità per per la storia è storia e le opportunità per noi che vogliamo insegnare storia pensando appunto soprattutto al nostro mondo contemporaneo ma guardando anche alle origini di questo mondo e la cosa diciamo tra le tante cose interessanti che hai detto in quest'ultimo in quest'ultimo intervento a me piace molto l'idea della musica come dialogo continuo come dialogo senza fine in pratica no che può avere dei momenti grande creatività di grande apertura e anche se vuoi come dicevi giustamente dei momenti se vuoi di ripiegamento forse ma di ripiegamento di chiusura o forse pausa ma la cosa bella è il dialogo e quindi io direi con l'auspicio di questo dialogo dobbiamo pensare assolutamente a riparlare di musica in futuro con i nostri studenti magari in occasione di un incontro più allargato visto che i temi musicali sono così tanti no parliamone ritroviamoci e usiamo anche la possibilità di fare lezioni in insieme che sono la nostra peculiarità sempre più sempre più sviluppata e e diamoci appuntamento in quell'occasione corrado ti ringrazio davvero molto volentieri e fra l'altro la metafora che più che soggiace a tutto il processo musicale è proprio quello dell'ascolto no c'è il senso il dialogo e l'ascolto l'ascolto dell'altro no non ci può essere dialogo senza senza un ascolto partecipante attento e la musica ci può molto aiutare in questo perché la musica è fruibile a più livelli naturalmente può fare da sottofondo la nostra vita meramente farci compagnia oppure può essere un modo per confrontarci no per saper ascoltare alla fine significa saper recepire il meglio che l'altro ti può dare ma anche saper ascoltare se stessi mettersi a confronto con una musica alcune volte vuol dire quando non riusciamo a capirla come per esempio guardando un quadro che non riusciamo a decifrare significa interrogare noi stessi no porci davanti ai nostri limiti dire ma se un compositore ha scritto questa cosa che senso avrà per me per la mia vita può essere una cosa che posso magari indagare ad un livello diverso da quello così semplice del della gradevolezza mi piace non mi piace la capisco non la capisco insomma ci sono degli spunti davvero di riflessione di dialogo infiniti e speriamo sì perché no di poterne far tesoro in lezioni in lezioni allargate esatto bene con questo auspicio e grazie ancora corrado ci sentiamo presto allora grazie di questa opportunità buon lavoro buona giornata buon lavoro buona giornata